Tornado Mitch, tutto pronto. Partiti. Velocissima dall'interno, complicata il tema che decise di farsela in testa. Si trascina in seconda il peso basso del bottom weight Ermo Colle che ha al suo esterno Acrixus. Poi una seconda linea formata anche da Il Moro. All'esterno di tutti c'è Ariane Breeze, poi It's Britain con The Only Way. Dietro a questi anche Blaugrana e chiude il gruppo Marcolino-Gioff. Questo è lo schema di gara quando i cavalli vanno già ad aggredire la curva con complicate teme in vantaggio nei confronti di Ermo Colle. In terza posizione c'è a questo punto Blaugrana che precede Crixus, Il Moro, Ariane Breeze, poi The Only Way ed ancora It's Britain. Ed in coda Marcolino-Gioff. Cavalli in dirittura d'arrivo con complicate teme che è sempre davanti ma verso il centro della pista. All'interno Ermo Colle che ha cominciato la sua lunga progressione. E poi all'esterno si prepara Il Moro così come Ariane Breeze, It's Britain che cerca corsia ancora più esterna. All'interno invece ci va Marcolino-Gioff che ha colto un buon barco. Poi Crixus che adesso si deve impegnare, stessa cosa per The Only Way. Un ampio ventaglione, molti con chance con Blaugrana che a questo punto è in vantaggio insieme a Marcolino-Gioff. Questi due che si staccano in lotta con all'esterno di tutti Ariane Breeze che adesso scatta. C'è lo scatto appunto di Ariane Breeze che adesso va ad attaccare Blaugrana. Passa Ariane Breeze che nella fase finale stacca ulteriormente. C'è lotta solo per le piazze dalla quale emerge Il Moro insieme a Blaugrana. Ma per la piazza dobbiamo rivederla sul maxischermo. Non ci sono dubbi sulla vittoria di Ariane Breeze. Ed Antonio Fresu che ha messo la quarta vincendo la seconda corsa in giornata. Giovanni Moccia, ne è l'allenatore, i colori sono quelli della Crossing Promotion. Vittoria importante per Ariane Breeze, sette anni. La quota al tot era di 5,37, numero 10 al primo posto. Per il secondo il Moro che precede Blaugrana. Ovviamente è un parere del tutto soggettivo in attesa di ufficializzazione. L'ultimo ordine di arrivo dovrebbe essere così. 10, 8, 6 ed è tutto da Capannelle. Grazie a tutti.